Una festa particolare a Villa Severi, cosa state combinando? Siamo alla terza edizione di Saporin Villa, una cinque giornate all'insegna dell'enogastronomia, quindi della qualità, delle eccellenze dei prodotti gastronomici e della viticoltura retina. Dalle bollicine ai vini rossi, ai vinsanti e distillati in abbinamento al sigaro toscano e poi ovviamente un menù che tutte le sere è dedicato ad una vallata del territorio, quindi che esalta le eccellenze del territorio, dal grigio alla chianina, ai legumi, di tutto di più. Allora, mi dica tutte le sere a quale vallata è dedicata? Stasera cominciamo con Arezzo e poi a seguire la Valtichiana, la Valtiberina, il Valdarno e il Casentino. Quindi non ci dimentichiamo di nessuno, facciamo anche una seriata dedicata al senza glutine. E poi, per chi invece vuole un cibo di strada, può trovare gli hamburger di chianina, il kebab di chianina, le sciaccine fritte col prosciutto, il panino con la porchetta, quindi un po' davvero per tutti i gusti e tutte le tasche. Diciamo così, portare i prodotti della terra a chilometri zero, diciamo così, alle stelle. Esatto, a chilometro zero anche perché abbiamo la collaborazione non solo dell'associazione Cuochi di Arezzo, ma proprio dei produttori stessi del mercatale. Quindi i prodotti che si mangiano in tavola si possono anche acquistare qui al mercatale. Grazie. Grazie.